Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nella prima parte della recensione del cannocchiale termico Termtech Ares LRF 2.0 Series. Il prezzo attuale che mi è stato suggerito direttamente dal manager Thomas Bau per questo modello per il mese di novembre di 3.760 euro. Questa sarà la prima parte della video recensione e poi successivamente troverete un test sul campo quindi vi invito a visitare il mio sito web termicienotturni.it oltre al gruppo facebook visori termici visori notturni e fototrappolaggio. Apriamo la confezione come vedete la confezione è molto curata c'è una scena con dei cervi una scena chiamiamola termica e all'interno della custodia trovate una grande borsa scusate devo spostare tutto una grande borsa rigida in cordura molto bella con sistema a doppia cerniera al suo interno potete trovare il cannocchiale che in questo caso è nella versione dotata di telemetro all'interno dei vari vani sono presenti le batterie formato 18.650 un tappo che dovrebbe andare a coprire la batteria il paraluce a soffietto una innumerevole serie di accessori vediamo insieme panno per la pulizia delle ottiche anelli da 30 mm io presumo che utilizzerò o questi o l'attacco rapido con tessa per motivi di brevità la cinghia per il trasporto della borsa in cordura il caricabatterie a due vani con attacco usb c poi il cavetto per il collegamento e o la ricarica e poi abbiamo una chiave per il montaggio degli anelli e per finire il tagliando col codice qr da cui poi potrete attingere a innumerevoli informazioni vediamo un attimo adesso insieme le caratteristiche basilari del cannocchiale ci sono innanzitutto vari modelli di questo cannocchiale questo è l'ares 6 e 50 l 2.0 quindi seconda versione ha un microbolometro quindi un sensore termico non raffreddato con una risoluzione massima di 640 x 512 pixel ha un pixel pitch di 12 micrometri e un valore n e td che è inferiore ai 18 mili kelvin il programma spettrale è compresa tra gli 8 e 14 micrometri inoltre la frequenza di aggiornamento è di 50 hertz e ha un campo di rilevamento massimo di 2600 metri vediamo se riesco a farvi vedere l'obiettivo è un obiettivo con un diametro di 50 mm ed è aperto a f1 inquadra un campo di vista di 8,8 gradi per 7 gradi e ha un ingrandimento ottico nativo di 2,8 per con uno zoom fluido e rapido 1,4 per la estrazione pupillare quindi la distanza dalla lente di campo dell'oculare di 50 mm mentre la pupilla di uscita generata ovviamente dal display è di 6 mm regolazione diottrica di più o meno 5 e poi abbiamo 7 reticoli il display è un amoled da 1024 x 768 pixel con un diametro di 0,39 pollici vi dicevo prima che le tavolozze colore sono innumerevoli dovrebbero essere 6 che altro dirvi è dotato di tubo per attacco con anelli standard da 30 mm registra audio fotografa e abbiamo inoltre il telemetro di cui poi vi presenterò le prestazioni sul campo nella seconda parte di questa video recensione proviamo un attimo a pesarlo con la mia bilancia elettronica senza attacchi senza batterie esterne diciamo così siamo sui 900 grammi 908 poi nella parte nella seconda parte dell'articolo della recensione che troverete sul mio canale youtube vi presenterò le sue prestazioni ovviamente qualche video ottenuto al poligone sul campo e poi anche come mi sono trovato con i pulsanti vedete qui c'è la parte principale con l'accensione il tasto per la fotografia presumibilmente questo dovrebbe essere il telemetro qui c'è il la pseudo torretta che accetta le batterie 18.650 e altri pulsanti funzione e questo invece è il tappo dove si accede alla porta micro usb allora ragazzi io direi che per oggi termino qui vi aspetto quindi come sempre su questo canale youtube ci vediamo anche soprattutto sul gruppo facebook dedicato agli appassionati della visione termica che è visori termici visori notturni e fototrappolaggio un caro saluto a tutti rapio giovanni salimbeni e buone osservazioni notturni sapute notturni 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 e notturni e notturni in